Giulia! Cosa c'è? Se vuoi scendere rimango io. No. Come stai? Ma come va che stia? Consiglio un cristiano rumore a proeo, regina angelo rumore a proeo, regina patriarcale rumore a proeo, regina profittale rumore a proeo. Scusate, sorelle, ma è l'ultima occasione di star soli con la nostra povera mamma. Perché lei mi è andata via? Così? Tu vuoi sempre distinguerti. Ma a te dispiace che la mamma sia morta? Che domande? Insomma, stai bene o stai male? Sono eccitata, sotto sopra, piene di idee. E tu no? Certo, è una grande occasione. E ognuno vorrebbe approfittarne. Hai visto Augusto come servizievole? Hai in mente qualcosa? E me lo domandi? Io sono un vulcano di idee. Ma sei nato? Augusto già ne vorrà approfittare per sposarsi e andare in città. Mi spiace per lui, ma dovrà restarsene a casa. Ale, ti pregherei. Cerca di rimanere coi piedi per terra. È lui che comanda qui. Esatto. Eppure è vero che non ne ho più soggezione. Non posso dirlo? Per me puoi dire tutto quello che vuoi. Come anche oggi il modo in cui ha messo sotto Lucia. Come se fossimo dei deficienti. Cosa serve dirlo? Non è penoso? Eh, cosa serve dirlo? E ti par nobile come vuole approfittare della morte della mamma? Perché non dovrebbe? Perché non dovrebbe? Ne approfitta chi ha qualcosa da proporre. Tu non hai niente e rimani a guardare. Ne approfitta lui perché sia quel che sia. È l'unico in fondo a volere qualcosa. Parliamoci chiaro. E parliamoci chiaro. Scherza, scherza pure. Credi che la mamma sia morte per disgrazia? Io ho ucciso la mamma. Con queste mani. Con tutta la mia paura. Sono io che rischio l'argastolo per il bene della famiglia. E lui come un ladruncolo tutto un tratto diventa fraterno. Porta in casa Lucia, le fa servire il caffè. Per portarsi via la fortuna che io ho fatto. Questo cervellino qui. A cui non davi quattro soldi di fiducia. Ma l'ha pensato tutto lui. La testa. La testa! Aspetta. Testa, Giulia. Tienimelo a testa. Aspetta che vengo. Sì, tutto. Calma, ti calma. Sì, tutto che ci segnalo. Tu è buono, buono, buono. Buono. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.